Oggi è il 17 dicembre del 2022 e facciamo la solita comparazione con Morningstar, la comparazione dei nostri portafogli costruiti durante i nostri videocorsi con l'universo dei rendimenti Morningstar azionari, stiamo parlando sempre di azionario nei due casi. Il rendimento a un anno in questo momento dell'universo Morningstar che prende in considerazione fondi comuni, gestioni di tipo azionario, in questo momento per quanto riguarda l'area aero perde il 16,20%, quindi invece per quanto riguarda l'area USA perde il 10,76% e che perda non c'è mistero, perché le borse vanno come stanno andando. Invece i nostri videocorsi, i portafogli che noi abbiamo messo insieme e che continuiamo a mettere insieme durante i nostri videocorsi per quanto riguarda l'area aero guadagnano un 8% e per quanto riguarda gli Stati Uniti guadagnano il 13,50%. Il fatto che dei portafogli molto grandi come quelli monetrati da Morningstar in pratica perdono, quando la borsa scende violentamente o non violentamente perdono, non c'è mistero, cioè non fa mistero, perché sono talmente grandi che in pratica replicano l'indice e sono bravi se riescono a replicare un po' meno l'indice, cioè andare un po' meglio tra l'indice. Mentre i nostri portafogli invece sono dei cherry pick, cioè delle scelte di ciliegie che normalmente outperformano, battono molto bene appunto gli indici e quindi siamo contenti di questi rendimenti. Bene, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.